Tre grandi chef pugliesi, Antonella Ricci, Peppe Zullo e Pietro Zito prepareranno la cena di Benvenuto in Puglia, la prima dei quattro banchetti che animeranno la festa di nozze indiana. Menù vegetariano naturalmente, ma ricco di tutte le nostre specialità, dalle burrate ai prodotti da forno. Una chicca. I tre chef porteranno i loro orti per proporre piatti a base di ceci e cicerchie fresche, ideali con la pasta di grano arso e germogli e fiori, quelli di zucca, serviti con il caciocavallo. E porteranno i loro collaboratori, oltre a lavorare insieme a quelli, anche loro pugliesi, di Borgo e Ignazia. Ci sono immense ricadute d'immagine per la Puglia dunque, ma anche ricadute economiche. Sempre restando nel settore della gastronomia, bisogna pensare che oltre alle quattro cene e al resto dei pasti per gli 800 invitati, ai quali lavoreranno anche cuochi indiani e il famoso chef di Senigallia Mauro Uliassi, comportate a base di pesce, ci sono tutti gli addetti ai lavori, centinaia da nutrire. Un privilegio che si è giudicata un'altra nota azienda pugliese, la Chevù di Martina Franca, che fornirà 10.000 pasti tra pranzi e cene fino al prossimo 7 settembre. Hanno già iniziato il 23 nelle quattro location dove operai, fioristi, addetti alle luci, sono al lavoro. Degli artigiani fasanesi e delle hostess pugliesi e dei fioristi abbiamo già parlato, ma lavoreranno per il matrimonio anche 15 parrucchieri e 15 truccatori baresi, reclutati dall'acconciatore del Petruzzelli, Nicola Foggetti. Faranno le prove domenica e poi torneranno il 3 e il 4 per 150 euro al giorno. Pettinerete artisti, invitati? Pettineremo tutti. Ma la sposa no. Questo non lo posso rilasciare. Quindi c'è il top secret sulla sposa. Top secret sulla sposa, sì. Grazie. Grazie.